Terra Mara, anticipazioni di giovedì 21 e venerdì 22 dicembre con la fine della terza stagione e l'inizio della quarta. Betul torna a casa dall'azienda e dice a Charmin che è felice perché i loro piani stanno procedendo molto velocemente e le mostra la procura che le ha firmato Demir. Charmin è sorpresa e Betul, soddisfatta, le dice che lo stesso giorno che le ha dato la procura lui è andato in carcere. Charmin, felice, dice che adesso la compagnia è la loro. Betul le risponde che nessuno potrà portargli la via e si abbracciano con gioia. Poi Charmin le dice che finalmente si potranno vendicare per quello che hanno fatto loro. A questo punto però ragazze bisogna capire il gioco di Charmin perché mente alla figlia dicendo di essere stata derubata dagli Yaman per non confessare di aver speso tutti i soldi con cui Demir aveva ricomprato la sua parte di eredità. La storia prosegue e nel frattempo Demir incontra Fikret nell'ufficio del direttore del carcere. Fikret gli chiede se ha parlato con l'avvocato. Demir risponde che farà opposizione ma che nessuno gli crederà che è stata Omid ad uccidere Sevda dato che tutti lo hanno sentito minacciarla e che la sua unica possibilità di salvezza è che Omid confessi di essere stata lei ad uccidere la madre. Poi gli dice che deve uscire da lì perché teme che facciano del male alla sua famiglia. Fikret gli risponde che ha un'idea per aiutarlo. Zuleya è dal pubblico ministero e gli racconta come Omid abbia ucciso Sevda e di come questa prima di morire abbia pregato Demir di non denunciare sua figlia e di non far nascere suo nipote in carcere. Lui non le crede e le ribatte che tutti hanno sentito Demir minacciare Sevda e che la verità verrà fuori in tribunale. Charmin sta rifacendo il letto di Omid quando vede sulle lenzuola una macchia di sangue e capisce che è una macchia di ciclo e che Omid sta fingendo la gravidanza per far impazzire tutti. Il giorno del colloquio in carcere Fikret si presenta ad Demir insieme ad un uomo che somiglia molto a Demir e gli dice che riuscirà a farlo scappare da lì. Quando viene annunciato che il tempo del colloquio è scaduto un altro uomo di Fikret che però sta a colloquio con un altro detenuto inizia a protestare e a creare scompiglio tra tutti i visitatori e detenuti. Durante il parapiglia Demir indossa il cappello e la sciarpa dell'uomo che gli somiglia e poi coprendosi il volto esce insieme agli altri visitatori. Poco lontano da lì lo aspetta Cetin con un camion dove lo fa nascondere. Giunti in un campo Demir scende e vengono raggiunti da Fikret che gli dice che deve andare subito a Mersin prima che tutti si accorgano della sua fuga e da lì a Laske dove una nave lo aspetta al porto per lasciare la Turchia. Al porto incontrerà un uomo di cui si fida che gli darà un passaporto falso. Demir gli risponde che non se ne andrà senza sua moglie e suoi figli che sono oltretutto in pericolo. Fikret e Cetin cercano di convincerlo ma Demir è irremovibile. Poi dice che una volta fatta partire la sua famiglia che affiderà al suo amico tornerà indietro per vendicarsi di Akan che ha rapito sua figlia. Quindi Demir e Fikret partono per tornare alla villa. Mentre Zuleya racconta a Sani che in tribunale non le hanno creduto sul racconto dei fatti arrivano Demir e Fikret e Demir le dice che è scappato perché ormai lo hanno condannato e che devono andarsene. Quindi le dice di prendere subito i bambini per andare via insieme e di fare tutto velocemente. Contemporaneamente però degli uomini armati e mascherati hanno scavalcato il cancello della villa e buttano delle bottiglie incendiare dentro la villa. Subito inizia uno scontro a fuoco molto violento. Fikret fa uscire Zuleya e i bambini da casa li protegge e insieme a Demir rispondono al fuoco ma gli assalitori sono molto numerosi. Poi all'improvviso il fuoco cessa. Subito Zuleya cerca Demir. Anche Fikret lo cerca ma Demir non è da nessuna parte e Zuleya disperata urla il suo nome. L'assalto alla villa è finito. Tutti sono sgomenti e attoniti. Demir è sparito. Zuleya lo cerca disperata. Per fortuna i bambini stanno bene. Sanye intanto cerca Uzum e la trova a terra ferita e desanime. Subito Gaffur e Sanye la portano in ospedale dove viene portata in sala operatoria. Sanye ha una crisi di disperazione. Gaffur la abbraccia cercando di infondere l'esperanza e coraggio. Intanto Charmin telefona Betul raccontandole che uomini armati hanno assalito la villa sparando dappertutto e lanciando bottiglie incendiarie che Demir è scappato dal carcere e non riescono più a trovarlo. Nel frattempo Meat è andata dal procuratore e gli riferisce che Demir ha ucciso sua madre. Poi mentendo gli racconta che Demir voleva uccidere lei ma la madre le ha fatto scudo con il suo corpo. Il procuratore le chiede perché vive nella tenuta Yaman e lei risponde che dopo che Demir è andato in carcere ha chiesto aiuto a Charmin. In quel momento entra il capo della polizia che dice che stanno cercando Demir. Allora Umit si intromette dicendo che Demir non è alla tenuta perché lo ha visto scappare da una porta secondaria. Continua dicendo che pensa che sia stato Demir ad organizzare l'assalto alla villa così da poter scappare indisturbato in Europa. Intanto alla villa Zuleya è con Fikret e gli dice che non sa dove sia Demir se è vivo o morto o se è ferito e prega di trovarlo. Fikret la rassicura che lo troverà. Nel frattempo arriva Betul che mentre consola la madre guarda con interesse Fikret. Poco dopo arriva anche Lucie che ha saputo della sparatoria da Baityar e subito si impegna a supportare Fikret e Zuleya che sconsolata le dice che non sa se Demir è stato rapito. Intanto in ospedale arrivano anche gli altri feriti nell'assalto e anche Kumal che dapprima guarda da lontano in modo distaccato e sospetto Sanye e Gaffur che piangono abbracciati poi li raggiunge inazzeando a piangere e a disperarsi in modo finto. Alla villa Betul chiede a Sharmine dove sia Umit e lei risponde che non lo sa. Intanto Fikret dopo aver cercato per tutta la tenuta torna da Zuleya e le dice che Demir non c'è. Zuleya gli chiede chi può averli assaliti ma in quel momento arriva il comandante della polizia che chiede a Zuleya dove sta Demir. Lei gli risponde che sono stati assaliti e Demir è scomparso. Il poliziotto le ribatte che potrebbe essere stato lui ad aver organizzato quell'assalto ripetendo le parole che aveva detto Umit. Zuleya però insiste che il marito è stato portato via e anche Fikret lo sostiene ma il comandante non sente ragioni e ordina ad entrambi di seguirlo per essere interrogati. Si intromette Betul dicendo che la cugina di Demir è un avvocato e consiglia a Fikret Zuleya di seguire la polizia per dare spiegazioni e che lei li accompagnerà. Arrivati in procura Zuleya e Fikret vengono accompagnati in stanze diverse. Il pubblico ministero va nella stanza dove è stata portata Zuleya e lei subito gli chiede se ha iniziato le ricerche di suo marito ma lui le ribatte di dirgli dove si trova e dove lo deve incontrare. Zuleya è stupita dalle sue domande e allora gli dice che hanno un nemico che ha bruciato un loro molino, ha rubato un loro camion e ha preso sua figlia anche se l'ha fatta ritrovare poco dopo fuori dal cancello. Poi sono stati assaliti e gli chiede perché non le crede. Lui le chiede chi sia questo nemico ma lei gli risponde che non lo sa perché non ha avuto modo di chiederlo a Demir prima che scomparisse. Contemporaneamente in un'altra stanza stanno interrogando Fikret che dichiara di non aver organizzato la fuga di Demir e che è una coincidenza che si è avvenuta dopo la sua visita. Intanto il procuratore non crede alle parole di Zuleya e le dice che Demir ha ucciso Sevda. Zuleya gli assicura che non è vero e gli racconta che Demir non ha denunciato Umit perché Sevda prima di morire gli aveva chiesto di non far andare la figlia in prigione. Lui però continua a non crederle e a ribadire di essere convinto che sarebbero tutti scappati in Germania. Intanto Fikret viene rilasciato ma lo avvisano che Zuleya sarà trattenuta. Quando Fikret esce dalla stanza trova ad aspettarlo Betul che gli assicura che resterà lì ad aspettare Zuleya. Lui la ringrazia e se ne va. Intanto a Beirut arriva Khan Gomusov, nel suo solito hotel dove ha una stanza riservata per lui. Terminano così queste anticipazioni. Con la chiusura della terza stagione abbiamo visto la scomparsa di Demir e purtroppo vi anticipo che non lo rivedremo tanto presto. Io sono Stefania, vi aspetto nel prossimo video. Intanto vi mando un abbraccio e vi invito a continuare a seguire la serie perché sta per entrare un nuovo personaggio, a Khan, interpretato dal bravissimo Ibrahim Cellicol che avremo modo di apprezzare tanto quanto Demir.